Ciao Milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi e sono ore, minuti, quelli in cui io vi sto parlando, sto registrando questo video, caldissimi per quanto riguarda Medi Taremi, perché possiamo dire tranquillamente che Medi Taremi non è mai stato così vicino al Milan come in questo momento Medi Taremi è veramente neanche un passo ormai, a meno, dal Milan in Iran addirittura sono convinti che le società abbiano trovato un accordo tra di loro l'accordo con il giocatore c'è già da tempo, adesso ne parliamo con calma, per bene ma subito lasciate un mi piace, fatelo per me di Taremi, ogni mi piace che lasciate Taremi arriva sempre più vicino al Milan, poi iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti mi raccomando, è importante, fatelo, non vi costa davvero niente poi attivate la campanella se volete anche ricevere le notifiche e ditemi la vostra nei commenti per questo colpo, ma attenzione perché non parliamo solo di Taremi quindi poi voglio sapere la vostra opinione anche sull'altro argomento di cui parliamo anzi probabilmente l'avrete letto dal titolo, quindi ve lo spoilerò poi ne parliamo meglio perché c'è un'occasione a Mrabat ma andiamo per ordine, quindi partiamo da Medi Taremi il classe 92 gioca nel Porto, è iraniano, è un attaccante di grande esperienza lo scorso anno ha segnato tanto, è un attaccante che segna, è un attaccante che fa gol quante volte quest'estate abbiamo detto, eh ma il Milan cerca giocatori bravi, oca, for sì, forte però non fa gol, però non fa gol ecco, Taremi è uno che gol li fa anche in abbondanza è un giocatore che ha giocato in Champions League, ha esperienza è l'attaccante che ha le caratteristiche che servono al Milan perché è molto simile a Olivier Giroud chi ci ha seguito lo sa, e l'ho anche espresso sui social quando si diceva Taremi o Lukaku, io ho sempre detto molto meglio Taremi rispetto a Lukaku per il Milan, perché? Perché per il tipo di gioco che ha il Milan, Taremi è più simile a Giroud quindi è un attaccante che sa lavorare il pallone che arriva dall'alto è un attaccante che in area di rigore è più presente a livello di... ha più qualità nei piedi che non sia per dover scaricare in porta Lukaku è devastante quando ha tanto spazio davanti prende palla e corre con il pallone nello spazio che ha davanti oppure quando spalla la porta, riceve palla a raso terra la difende col corpo, si gira e tira potente però questo gioco il Milan quante volte lo fa? Poco quando deve partire in contropiede e in velocità ha già i suoi giocatori veloci, ha Raffaeleao, ha Ciuqueze volendo lo stesso Pulisic ha dimostrato grande capacità c'è Loftus Cic, guardate che quando è partito ha fatto paura Musa è un altro con queste caratteristiche quindi questi giocatori il Milan già li ha chi ha però che sa lavorare il pallone che magari viene lanciato da Mike Mignon per fare la sponda come abbiamo visto tante volte a Bologna solo Olivier Giroud in questo momento lo stesso Okafor è un attaccante, può fare l'attaccante ma è un attaccante che è bravo nel dribbling, nello stretto quando punta l'uomo ma di giocatori come Olivier Giroud avevamo solo Olivier Giroud quindi ci serviva Meditaremio uno che sa lavorare il pallone che ti arriva dall'alto sa stoppare bene il pallone, Lukaku sul primo controllo non è proprio il massimo e quindi ben venga Meditaremio ma adesso dopo aver fatto questa spiegazione personale sul perché Taremi è un grande acquisto per il Milan andiamo ai dettagli il Milan dovrebbe pagare Taremi 18 milioni bisogna capire se ai 18 milioni sono ad aggiungere i bonus oppure se nei 18 milioni sono compresi i bonus ma ripeto, secondo quello che dicono in Iran la raccordo è ormai praticamente raggiunto tra Milano e Porto siamo ai dettagli finali Taremi andrà a guadagnare 3 milioni all'anno per 4 anni con 1 milione bonus questo è l'accordo che il Milan ha raggiunto con Taremi quindi un contratto comunque abbastanza lungo per un giocatore di 31 anni ma così il Milan riesce ad ammortizzarlo per bene comunque poi ovviamente queste cose dovranno essere confermate non mi sorprenderebbe se poi alla fine il contratto fosse un po' più breve ma ripeto, la cifra che il Milan pagherà al Porto è di 18 milioni da capire se 18 più 2 quindi per arrivare a 20 o magari 18 comprensivi di bonus 15 più 3 però in ogni caso la cifra è 18 milioni e Taremi è sempre più vicino al Milan in queste ore, poi non so quando vedrete questo video ma adesso vi parlo, sono le 13 più o meno del primo pomeriggio questo video lo verrà pubblicato appena riuscirò a caricare abbiamo avuto le ultime notizie fresche e quindi Taremi sempre più vicino al Milan e lasciatemelo dire, con questo acquisto il Milan effettivamente completa un mercato che è stato ottimo sapete benissimo quanto io fossi alterato per l'addio di Maldini sapete benissimo, rimango dalla mia idea che comunque Maldini non aveva le grandi colpe lo scorso anno mi dispiaciuto tantissimo per l'addio di Tonali però c'è da dire che poi al netto di queste decisioni che comunque hanno fatto molto male al di là delle motivazioni di campo per il cuore milanista di ognuno di noi c'è da dire che al netto di tutto questo il lavoro poi svolto da questa dirigenza sul mercato dovendo giudicare solo quello che è stato fatto sul mercato non si può che dire essere stato ottimo qualora dovesse effettivamente arrivare anche Taremi praticamente è stato fatto tutto quello che bisognava fare a eccezione probabilmente di un centrocampista centrale attenzione e di qualche tassello da sistemare in difesa ma poi per fare questo ci sarà tempo eventualmente a gennaio o la prossima estate non era l'urgenza ma perché vi ho detto attenzione al centrocampista centrale perché si è aperta una possibilità e il Milan ci sta lavorando questa possibilità si chiama Sofian Amravat della Fiorentina lo conosciamo tutti è stato un gioco ormai in viola da diversi anni è un classe 96 quindi non è giovanissimo ma non è neanche grande tra virgolette e ha il contratto di scadenza nel 2024 ha rotto ormai con la Fiorentina la sua cessione, la sua partenza sembra ormai certa le ultime ore di mercato lo vedranno protagonista sicuramente e a questo punto bisogna capire dove andrà a finire perché Amravat sarebbe un grande colpo non a titolo definitivo perché? perché la Fiorentina ha è vero che ha un anno di scadenza ma ha una possibilità un'opzione di rinnovo annuale quindi cosa significa che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto il prossimo anno la cifra sarebbe abbastanza alta bisogna capire 20-30 milioni più o meno però il Milan a queste condizioni può farlo un prestito con diritto di riscatto per Amravat si può fare è marocchino ma quindi è extra comunitario ma tra l'altro viene dal campionato italiano e quindi non dovrebbe esserci nessun problema tra l'altro se non sbaglio ha anche passaporto olandese quindi comunque sicuramente non ci sono problemi da questo punto di vista e qualora dovesse arrivare Amravat attenzione a possibili uscite nel centrocampo del Milan perché a livello numerico il Milan è completo quindi attenzione all'eventuale partenza di Yassin Adli o a sorpresa ieri vi abbiamo raccontato che il Milan aveva bloccato la partenza di Krunic ma a questo punto attenzione qualora dovesse arrivare Amravat dovesse aprirsi questa possibilità alla partenza di Krunic io ripeto Krunic non lo darei via per gli automatismi che ci sono in questo Milan e per l'importanza che ha in un centrocampo che è stato rivoluzionato mantenere almeno Rade Krunic altrimenti comunque Amravat rimane un'occasione ve la do così occasione di mercato clamorosa Amravat per il Milan questa è la possibilità mancano ormai pochi giorni perché mancano mezza giornata di oggi domani e mezza giornata di dopodomani quindi due giorni di mercato e quindi ormai Taremi ci siamo poi adesso capiremo se ci stanno le condizioni per provare a portare il rosso nero anche Sofian Amravat è tutto per il momento lasciate un mi piace a questo video iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti mi raccomando è importante attivate la campanella così non vi perdete nessuno degli aggiornamenti che andiamo a pubblicare e commentate qua sotto per dimmi la vostra sia su Taremi che su Amravat e iniziamo a dare i voti a questo mercato del Milan poi lo faremo un bel video con i voti di tutto il mercato un saluto a parte di Stefano Bressi seguiteci su pianetamina.it e su tutti i nostri profili social appuntamento a prossimo video